quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita anche quello che mangiamo che sprechiamo o conserviamo il cambiamento siamo noi piccoli gesti che si moltiplicano e se li facciamo in 6 in 600 in 60 milioni il risultato è qualcosa di grande fondazione barilla ti regala una piccola guida per grandi cambiamenti richiedi la gratis a casa tua su fondazione barilla puntocom